Lei che deve fare oggi? Io devo vendere un anellino. Dove vendere un anellino? Prenderò 40 euro, non lo so. Innanzitutto voi avete fatto guardare quel povero signore che andava a vendere un anellino che diceva di avere trovato in terra per 40 euro. E io ricordo, Selena, anche da te, ma anche in altri programmi dove sono stato, che quando il Movimento 5 Stelle ha finalmente realizzato uno dei suoi cavalli di battaglia, il reddito di cittadinanza, tutti, mulè compreso, facevano ironia, avete fatto programmi che lo condannavano in tutti i modi, oddio, il reddito, mamma mia, è l'assistenzialismo. Pagare il reddito di cittadinanza, che è la mortificazione del lavoro, della dignità della persona. Grazie al reddito le persone che hanno difficoltà e poi rischiano di finire preda degli usurai sono molte meno, perché 2 milioni e 400 mila italiani in meno hanno questo tipo di problema. Pensate cosa sarebbe l'Italia che è in ginocchio, sia chiaro. Pensate cosa sarebbe senza il reddito di cittadinanza. Forse qualcuno dovrebbe chiedere scusa per l'enorme bestialità che è stata detta allora e che oggi si vede in tutta la sua plastica evidenza. Sono terrorizzato, guardate, il Paese deve essere terrorizzato da gente come Gianrusso che, come vedete, non ha nessun tipo di senso dello Stato. Per cui continuo a buttare. No, non è personale. Siccome mi ha dato del maleducato, eccetera. Dico, io sono terrorizzato che questo Paese sia nelle mani di chi, piuttosto che pensare al bene del Paese, pensa a una polemica che è veramente totalmente inutile. Quindi, soldi del MES sì, se non hanno alcuna condizione, perché servono soltanto per le infrastrutture e per le sanitarie. Questo è tutto. Quindi abbia pazienza, faccia parlare anche gli altri, non parli sopra, e abbia il rispetto per chi sta lavorando per questo Paese. Quando qualcuno dice che è preoccupato perché ci sono io, ha tutto il diritto di essere preoccupato perché ci sono io. Io sono molto preoccupato che esista ancora un partito dove c'è ancora un leader. Questo partito è stato fondato da Marcello Dell'Utri che è stato condannato per mafia. A me questo preoccupa, che ancora in Italia abbiamo dato cittadinanza a un partito politico fondato da un condannato per mafia. E ancora c'è qualcuno che lo sostiene. Mi fa preoccupare moltissimo. Ule, facciamolo finire. Io ci preoccupo per le cose sue. Mi fa preoccupare moltissimo la puntata di report dei vostri amici che invito tutti a vedere che ha raccontato legami ancora della criminalità organizzata con la destra italiana. Sia di Salvini che della Meloni, ma di Forza Italia che ne conosciamo da tempo le imprese. Quello che oggi Conte va a fare. Io sono molto felice invece di essere rappresentato da una persona come Conte perché Conte per la prima volta in Europa ha sbattuto i pugni sul tavolo. Poi sempre io rimango preoccupato dalla presenza di Forza Italia perché un partito fondato da un condannato per mafia a me preoccupa molto più della mia barba. Allora, però su questa cosa vorrei rispondere perché è talmente, come dire, grave che vorrei rispondere senza essere come dire davvero non interrotto né per avere nessuna... Allora... Anche lui condannato per favore di una persona di mafia. Ti parli di Cuffaro. Chiuda. È orgoglioso di avere avuto Cuffaro come Presidente della Sicilia? È orgoglioso di Cuffaro? Io sono davvero, come dire, indignato che sul servizio pubblico lei consenta ancora... Giarrusso, Giarrusso, silenzio per favore. Io ho paura di persone come lei. Io ho paura di persone come Dell'Utri, come Cuffaro. Giarrusso, Giarrusso. Ho paura di persone come Cuffaro. Ho paura di persone come Cuffaro. Ho paura di... Giarrusso, per favore. Allora, scusate, chiudete l'audio di Giarrusso perché se no continuo a parlare non ho messo voi. Tu cosa ne pensi, Serena, di avere avuto un Presidente della Regione Sicilia condannato per favoreggiamento alla mafia, Serena? Tu cosa ne pensi? Possiamo chiuderla, per favore? Possiamo chiuderla, per favore? Non è un ricordo del passato. È un fatto. Possiamo chiudere... Allora, chiudiamo... Sì, è un'enziata. E ricordare... Se posso finire... Togliamo l'audio a Giarrusso se no non andiamo avanti. Come sentite, a questo punto mi viene tolto l'audio perché evidentemente dire certe verità storiche in TV fa paura a tanti. Proprio per questo diffondiamo questo video.